ben tornati a storia di calcequizze io sono salva life oggi terza puntata del mio podcast e non possiamo non parlare della vittoria della fiorentina 2 a 1 contro la lazio partita che vede l'esordio in campionato di albert gumson subentrato nel secondo tempo ma prima focalizziamoci un attimino sul primo tempo della frentina un primo tempo bruttissimo si può dire così è brutto la frentina non riesce mai a prendere in mano le reti nella partita addirittura stavamo venendo una fatina peggiore di quella di bergamo nonostante la sconfitta si era visto qualcosina una frentina proprio cagliarta oggi nel primo tempo veramente male tanti sbagli tanta frenesia gioco lento giocatori imballati sempre gli soliti passaggi in un certo punto ci eravamo fissati con dei cross dritti per dritti per che ne tutti intercettati una frentina che non riusciva a fare praticamente nulla e ci stavamo veramente innervosendo perché oggi era una partita molto importante fatina non si poteva permettere la sconfitta già il pareggio era stretto ma la sconfitta sarebbe stato veramente un disastro e perciò la lazio in un certo punto quando è passata in vantaggio la situazione è andata ancora peggiorando perché i giocatori si sono veramente lasciati prendere appunto dalla frenesia già regnava tanta confusione sappiamo che questa squadra attualmente non è ancora nemmeno al 50 per cento a mio avviso di quello che potrebbe dimostrare tanti giocatori sono ancora fuori forma non hanno ancora compreso bene gli schemi dei palladino quindi soprattutto questo sta incidendo moltissimo infatti questo primo tempo è da rivedere da analizzare sicuramente mister palladino entrerà soprattutto martedì quando ci metteranno la mente su questo problema stiamo cercando di capire dove abbiamo sbagliato visto che stanto a quello che aveva detto lui prima della partita si erano allenati bene soprattutto per alcune dinamiche conoscendo vedendo un po quello che aveva fatto a lazio ma nel primo tempo non si è visto praticamente niente la lazio ci ha dominati per 45 minuti e da lì siamo andati veramente negli spogliatoi con il morale sottoterra ma appunto nel secondo tempo già vedendo lui albert gurdunson che si stava scaldando in maniera ormai decisiva tutto il pubblico lo stadio franchi era già in fibrillazione perché non vedeva l'ora di vederlo in campo e così è stato albert gurdunson entra nel secondo tempo la florentina butta dentro tutte le sue armi migliori alza notevolmente il baricentro per cercare appunto di trovare il pareggio e poi la vittoria quindi albert gurdunson entra e già da lì secondo me lui solo il suo ingresso ha ha dato morale alla squadra e ha messo in ansia ovviamente la lazio e infatti appena toccato un pallone subito si vedeva che il ragazzo era in grandissima forma nonostante veniva da tantissimi mesi di inattività l'ultima partita di tour a fine maggio e vederlo così fresco sembrava che avesse giocato cioè praticamente sempre e si guadagna un calcio di rigore grazie appunto alla sua freschezza atletica è incredibile può vederlo dal dischetto ragazzi è incredibile freddissimo un giocatore che secondo me quest'anno ci farà godere tantissimo guadagni si guadagna anche il secondo rigore una fiorentina che oggi deve ringraziare solamente gurdunson perché anche nel secondo tempo nonostante tutti i cambi nonostante ciò non è che abbiamo visto una grande fiorentina ragazzi cioè non facciamoci ancora abbagliare da questa grandissima prestazione di questo ragazzo la fratina deve lavorare tantissimo c'è tanto da fare tanti calciatori sono ancora lontani dalla condizione migliore quindi c'è molto molto da fare però secondo me già questa vittoria ci può dare quella energia quella forza in più per proseguire per cercare un attimino di riadrizzare questa stagione iniziata molto male e ovviamente non era possibile che la fratina fosse quella di queste giornate la fratina è una squadra che non è chissà che cosa però ovviamente non è la squadra che abbiamo sentito di tutti questi giorni da lotta per la retrocessione ariama i 40 punti c'è tanto da fare c'è tanto lavorare il mister lo sape e sicuramente cercherà di migliorare questa rosa a mio avviso secondo me in questa squadra dovrà trovare spazio ad lì perché fino adesso si è visto veramente pochissimo la curiosità per evidente lui è entrato in campo che avevi tutti ingellati è riuscito che avevi perfetti quindi non ha giocato non ha toccato una palla è uno come lui secondo me non so perché stai ancora giocando mandragora avviso ad lì deve giocare devi trovare spazio in questa rosa per il resto male però tempo benino al secondo tempo un ken nervoso alla fine partita ma non deve essere così nervoso perché qui nessuno siamo tutti innamorati di lui lo vogliamo bene non c'è bisogno di questi di queste sfuriate queste cose davanti calci di rigore perché in questo momento conta la fiorentina conta erano importantissimi questi tre punti quindi dobbiamo lasciare un attimino dietro i propri le nostre proprie la voglia personale di segnare adesso c'è il gruppo e quindi che deve stare tranquilli ricorda ci sono già sono arrivati arriveranno oggi è una partita difficile anche in una situazione molto molto complicata quindi ragazzi questo è questo è quanto per oggi per questa terza punto del mio podcast florentina lazio 2 a 1 doppietta di Gudmundson come l'avete vista voi fatemelo sapere nei commenti qua sotto e noi ci vediamo per un prossimo episodio ciao